Sabato 29, domenica 30 agosto a Talsano Taranto in Piazza Loiucco, seconda festa dell'USB. Noi non dimentichiamo, siamo con Amedeo Zaccaria, il papà di un giovane che tre anni fa perse tragicamente la vita. Il senso della solitudine che si prova oggi a distanza di circa tre anni e questo senso di solitudine accompagnato al senso di impotenza perché i morti continuano ad esserci. Certo, ci sentiamo impotenti, la nostra vita diventa come quando si va in bicicletta che si pedala, arriva a un certo punto si lascia di pedalare e la bicicletta va per i fatti suoi, va per inerzia, così è la nostra vita. Però devo anche dire che grazie a tante persone come gli amici dell'USB che ci sono vicini sia a noi sia a tutti gli altri parenti delle vittime è come se a questa bicicletta noi ogni tanto dessimo una pedalata per continuare nella nostra vita perché tutto ci diventa più difficile, il lavoro ci diventa più difficile perché qualsiasi attività quotidiana ci diventa difficile perché da come si aprono gli occhi la mattina il pensiero è sempre fisso alla persona che non abbiamo più vicino, che non siede più a tavola con noi, con la quale non scambiamo specialmente da padre e figlio, non scambiamo più le idee, i consigli e la vita diventa una cosa impossibile. Per l'appunto cerchiamo di approfittare in queste manifestazioni che torno a ripetere organizza l'USB, far capire alle persone quanto vale la vita di una persona che viene a mancare perché sembrerebbe che come dimostrato dall'ultimo decreto ILVA, sembrerebbe che le vittime del lavoro siano state paragonate a un oggetto.